Rischio clinico e responsabilità legale. Il tema del convegno svolto sia a Barletta organizzato dallo studio legale Mancarella in collaborazione con il Rotary Club di Barletta e con il patrocinio dell'Ordine dei Medici della BAT che ha fornito ai professionisti della salute un'opportunità di approfondimento sulla cruciale tematica della responsabilità medica. I relatori d'eccezione, il professor Biagio Solarino, professore associato di medicina legale presso l'Università di Bari, il dottor Gianluca Tarantino, magistrato della seconda sezione civile del Tribunale di Bari, moderati dall'avvocata Sabina Grisorio di Barletta, hanno focalizzato l'attenzione sul titolo eloquente del convegno Rischio clinico e responsabilità legale, paura di sbagliare e coraggio di agire che rappresenta il nucleo centrale della più ampia questione della responsabilità sanitaria. La crescente esposizione a processi penali e civili nei confronti degli operatori sanitari con oltre 300.000 cause penali per presunta colpa medica e 35.000 richieste di risarcimento rischia di far sì che i medici si concentrino più sulle potenziali conseguenze negative delle proprie azioni piuttosto che sul successo della pratica medica. Un comportamento talvolta definito medicina difensiva è stato dunque al centro dell'attenzione. La tematica è così attuale che recentemente è stata approvata la cosiddetta scudo penale mediante un emendamento al decreto 1000 proroghe che fornirà protezione ai medici fino alla fine del 2024. Il convegno ha rappresentato un'occasione proficua con un dibattito vivace e partecipato per offrire ai professionisti della salute approcci operativi per affrontare quotidianamente le sfide della delicata professione sanitaria. Gli interventi hanno permesso di comprendere le dinamiche processuali affrontate dai magistrati e dai consulenti tecnici durante i procedimenti giudiziari legati alla responsabilità medica.